E poi piano piano mi comincia ad aumentare, mi aiuto con le braccia e vado forte, ok? Corriamo bene, alziamo il corpo, non corriamo con questo corpo abbassato che facciamo più fatica, per andare più veloci, testa alta, braccia e gambe, braccia e gambe, devono andare con lo stesso movimento, andiamo più veloci, ci sta quelli che...